Tre gol all'attivo ed ottime prospettive che però si svilupperanno altrove. Luca Gagliano, attaccante di Alghero, classe 2000, saluta il bianco-verdi e torna a casa al Cagliari. L'Avellino, in accordo con quanto deciso ad inizio mercato, comincia dunque a far spazio nel reparto avanzato, dove anche Vincenzo Plescia sarebbe con la valigia già pronta. Il calciatore, corteggiato dal Potenza, preferirebbe fare un'esperienza al nord, magari all'Ecco o alla Pro Patria. Intanto Antonio Messina è un nuovo calciatore dell'Andrea, dove ritroverà Ciro Ginestra, che lo ha allenato al Bisceglie. In uscita anche Andrea Sbraga, il difensore centrale, piace al Potenza con pagina avversaria dei Lupi nel girone C, ma il calciatore avrebbe rifiutato l'offerta. Mignanelli, sostituto naturale dell'intoccabile Tito, sarebbe in lista di sbarco e sarebbe stato richiesto dall'Ancona. Nelle prossime settimane se ne saprà di più. La matassa più complicata da sbrogliare al momento è quella relativa ai senatori del centrocampo, a partire da Sonni D'Angelo. Il calciatore ha già incontrato la dirigenza in un summit risolto in una fumata grigia. Il nodo riguarda le prospettive del centrocampista dalla sua voglia di fare un'esperienza in B, se non quest'anno magari il prossimo, e non ultimo il modulo con il quale Braglia intende schierare la squadra, che condizionerebbe ovviamente prestazioni ed impiego. Medesimo discorso per Beppe Carriero, che con un contratto in tasca fino al 2023 resta comunque corteggiatissimo dalla Lega Pro. Sirene dalla C anche per Salvatore Aloi, che, al contrario dei compagni, sembra davvero destinato ad altri lidi. L'interesse dell'Entella lo stuzzicherebbe non poco, ma alla porta ci sarebbero anche altri pronti a convincere il capitano a lasciare la fascia e trasferirsi altrove.